Ci vuole al più presto una riconversione green per mettere un freno al settore delle estrazioni del gas in mare. Legambiente scrive al sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, e alla giunta regionale in particolare due futuri assessori legati al lavoro e alla green economy, Vincenzo Colla e Patto per il clima e l'ishline. La richiesta di Legambiente è quella di attivare subito un tavolo di riconversione verde nel settore economico legato alle estrazioni di gas su cui il governo dovrà avere un ruolo determinante. Legambiente riterrebbe sbagliato un'azione di lobby locale per riproporre il rilancio della stagione del fossile. Sul tema sono intervenuti in ultimi giorni sia il ministro dell'economia Roberto Gualtieri e il sindaco di Ravenna Michele De Pascale che ha chiesto al prefetto l'indizione di un tavolo di crisi per il settore legato agli effetti del provvedimento bloccatrivelle del governo precedente. La motivazione deriverebbe, spiegano, dalla proroga di oltre sei mesi della definizione del piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee che potenzialmente potrebbe bloccare alcune aree di estrazione. Uno slittamento previsto nell'attuale percorso di conversione del decreto mille proroga. Lo stesso Bonaccini ha sollecitato il governo ad un confronto sul tema, spiegano gli ambientalisti sarebbe profondamente sbagliato a reclamare un tavolo di crisi come strumento di pressione per ottenere lo sblocco dell'estrazione. Il settore dell'olio e gas necessita di un tavolo che dia nuove prospettive di riconversione industriale verso le tecnologie green. Guardando le ipotesi delle rinnovabili come l'eolico offshore e prevedendo una fase intermedia di impiego del know-how delle imprese nell'impegnativa fase di smantellamento e bonifica delle piattaforme esistenti.